ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a fare una panoramica generale sull'oracolo chain link e il suo tocco in utility link ovviamente questa non è una recensione dettagliata con analisi di white paper tutto quello che ne concerne ma appunto è una panoramica generale che serve a chi si avvicina al settore per la prima volta neofiti delle cripto valute di ottenere una piccola finestra sul panorama degli oracoli per poi andarlo ad approfondire in autonomia andiamo a vedere c'è il link dopo la sigla ci troviamo sul sito ufficiale del progetto raggiungibile all'indirizzo chain punto link e andiamo a vedere brevemente di cosa tratta progetto link innanzitutto sul coin market cap lo troviamo al rank 12 per capitalizzazione di mercato è un token attualmente è in watch list di 405 mila persone a un valore di 30 euro virgola 69 centesimi con un oscillazione negativa delle ultime 24 ore del 2,11 per cento attualmente a un rifornimento circolante di 419 milioni di link per un rifornimento totale di circa un miliardo di token andando ad osservare il grafico in questi ultimi mesi abbiamo visto una crescita generale del mercato delle cripto valute compreso ovviamente gli oracoli che sono sempre più utilizzati nel mondo della defa e adesso andremo anche a vedere il perché c'è il link si può acquistare su main as kraken con base bro e altri exchange diciamo che è quotata sugli scambi maggiori allora c'è il link fondamentalmente che cos'è è un servizio di oracoli decentralizzati e cerca di velocizzare ma soprattutto semplificare il collegamento tra fonti di dati esterne al mondo della blog cene e interne alla blog cene per arrivare a pieno regime regime e ad essere utilizzati completamente gli smart contract e la blog cene avevano bisogno di un supporto il supporto arriva proprio dagli oracoli in poche parole l'oracolo va a prendere le informazioni nel mondo esterno la blog cene li racchiude li traduce nel linguaggio in cui lo smart con tra lo li può captare e li può inserire nella blog cene e viceversa gli oracoli espandono il modo d'uso e lusi e l'usabilità della blog cene perché forniscono un sistema completamente affidabile per avviare gli smart contract ovviamente quando vengono rispettate e raggiunte determinati target per l'esecuzione il token link è un token utility che viene utilizzata da cian link come ricompensa ai validatori per la risoluzione dei nodi una volta che è stata avviato il progetto circa il 30 per cento dei link sono stati messi a disposizione dei validatori per incentivare la risoluzione dei nodi mentre un alto 30 35 per cento è rimasto all'interno dice il link per supportare il lavoro e lo sviluppo futuro dice il link stesso c'è il link nasce nel 2014 al momento del lancio aveva un altro nome si chiamava smart contract puntocom che successivamente è diventato c'è il link tra il 2017 e 2018 ha anche ottenuto una sovvenzione enorme di capitali di circa 32 milioni di dollari che hanno permesso a cian link di svilupparsi ed è arrivare fino ad oggi una delle partnership più importanti e strategiche è stata fatta con google come funziona cian link in modo generale le richieste degli oracoli allora tutto inizia quando un utente invia appunto una richiesta questa richiesta prende il nome di richiesta di contratto questa notifica arriverà all'interno della rete con il nome evento block chain subito dopo verrà generato un contratto che prende il nome dice il link service legato a questo contratto immediatamente la rete c'è il link ne genera altri 3 il primo dei tre generati è un contratto che va a rivedere all'indietro la storia della richiesta per controllare l'affidabilità e la veridicità verificata la veridicità si unisce al secondo contratto creato che praticamente va a inserire questo protocollo all'interno dei nodi superato il nodo l'ultimo contratto va a controllare se ci sono dei dati errati e va a diciamo a mettere a posto le parti mancanti delle informazioni e tutti i dati che non sono conformi e concordanti con tutti gli altri dati inseriti nella rete vengono automaticamente scartati e ignorati una volta terminato anche il terzo passaggio i dati vengono convalidati e vengono messi disponibili nella block chain il token link è un token che gira sulla blocce di tiro quindi per conservare questa questo token utility basta avere un to un wallet che supporta i token rc 20 come ad esempio metamask oppure lasciarli all'interno dei wallet exchange come ad esempio binance vediamo un altro esempio pratico conosciamo tutti ormai la defa e quindi la finanza decentralizzata ma molte volte non c'è chiaro quali siano le fondamenta che permettono di avere tutti questi protocolli dei fai sopra le block chain come ad esempio e tirion o binance alla base infatti della defa e troviamo le stable coin che permettono agli utenti di essere meno esposti alla volatilità del mercato ma una cosa fondamentale che insieme alle stable coin troviamo anche gli oracoli che sono appunto dei servizi che permettono di ricevere i dati e le informazioni che si trovano al di fuori del contesto delle cripto valute siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento lasciatemi scritto nei commenti se volete degli approfondimenti per quanto riguarda c'è il link il suo funzionamento e per quanto riguarda il funzionamento in generale degli oracoli mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciatemi un like ed unitevi alla nostra community telegram per far due chiacchiere insieme a noi ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti